Goku ultraistinto non completo, da Dragon Ball Super, Saga e Torneo degli Universi. Quando tempo ci vuole per impegnarti, per preparare il costume, anche perché hai visto che sei appassionato completamente di Dragon Ball, Goku chiaramente, che poi è il personaggio in realtà più debole della Saga. Come va? Andiamo Goku, io ci campo con questo mestiere, prima o poi ci rimetterò ad esaudire i desideri in continuazione. Scusa, ma questo è urgente. Oh, Vegeta si sta allenando? Sì, si sta allenando ancora. Vuoi di nuovo che ti renda più forte di lui, eh? Ormai mi leggi nel pensiero. Sei davvero uno stronzo, Goku. Sì, lo so. Sulta poi più forte. Diciamo che è il guerriero di infimo livello, cioè categorizzato con il più scarso. Dunque, per questa parrucca diciamo che ci vuole tipo un mese. Tra costruirla, aggiustarla e lavorarla un mesetto, considera che io mi ci metto la sera, ecco, un paio d'ore alla sera. E adesso, quale sarà il personaggio successivo a questa parte? Chiaramente sempre un Goku. Allora, il personaggio successivo sto in forse tra un Gogeta, che sarebbe la fusione tra Goku e Vegeta, oppure un Super Saiyan di terzo livello.